In forma bimbi! Ciao bambini, come state? Oggi vi voglio proporre un'esperienza diversa dedicata ai bambini un pochino più grandi dai due anni in avanti, sempre sotto la supervisione del babbo e della mamma. Utilizzeremo delle cornici particolari e i soggetti della nostra esperienza saranno foglie, pigne e rametti. Quando uscite a fare delle passeggiate la natura ci offre tantissime cose che possiamo toccare, vedere, sentire, ma possiamo anche comporre dei quadri artistici bellissimi. Si chiama Arti in cornice, ve la ricordate? Questa esperienza la facevate anche al nido. Adesso vi faccio vedere i miei quadri che ho creato oggi. Un abbraccio! Ciao bimbi! A presto! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!